Il dipartimento è antifascista, lo scrivono in un documento pubblico i docenti dell'Università di Siena dopo le esternazioni filo-naziste del professore che inneggiava Hitler. Le esternazioni del professor Castrucci cozzano apertamente con la linea culturale e scientifica di questo dipartimento. Che non soltanto riconosce ma pratica l'antifascismo quale valore fondante della nostra carta costituzionale. Chiede una sanzione tempestiva e giustamente esemplare il consiglio del dipartimento di giurisprudenza in un documento in cui la parola chiave è antifascismo. Fuori dalle aule i ragazzi in sit-in non ci stanno a rimanere in silenzio davanti ad una vicenda che reputano gravissima. Chiediamo all'università una presa di posizione forte sia su Castrucci che su altri soggetti che hanno comportamenti simili e che li hanno già palesati e dimostrati negli anni. Castrucci potrebbe essere sospeso in attesa della pensione. Molto dipenderà anche dalle decisioni della procura che ha aperto un fascicolo per istigazione a delinquere per motivi discriminatori aggravati dal negazionismo.